La diciottesima edizione dei Giochi del Mare, che si terrà a vasto da domani, venerdì 4 giugno fino a martedì 8, sarà non soltanto una manifestazione sportiva, ma anche il primo grande evento che accompagnerà l'Abruzzo verso la tanto attesa zona bianca, come dichiarato dal governatore Marco Marsilio durante la conferenza stampa di presentazione dei Giochi del Mare. Lo sport è per noi un grande veicolo di promozione del territorio, oltre che di promozione di stili di vita sani. Non a caso in questa manifestazione c'è anche una convenzione con l'ASL per mostrare insieme ai dipartimenti cardiovascolari quali sono i benefici dell'attività fisica per la salute e noi speriamo che questi giorni siano davvero giorni di grande festa, di grande partecipazione, è un ottimo veicolo per far conoscere la nostra regione non soltanto alle persone che verranno per partecipare in prima persona alle gare e ai giochi, ma alle tante altre che li potranno vedere nelle televisioni, ne potranno seguire le attività e grazie a queste attività scoprire anche la bellezza del nostro mare e del nostro territorio. Capofila dell'evento è la FIPSAS, Federazione Italiana della Pesca Sportiva e delle Attività Subacque, di cui è Presidente regionale Carlo Paolini. Abbiamo deciso insieme agli organizzatori di portare questa manifestazione splendida, speriamo, in una zona dell'Abruzzo che è altrettanto splendida, con le sue riserve naturali, la costa dei Trabocchi, sappiamo tutto. Insomma, ci sforziamo anche di valorizzare sotto questo punto di vista una parte della nostra regione. Ci saranno due appuntamenti veramente molto importanti, oltre le manifestazioni di pesca agonistica, che saranno traina costiera con le imbarcazioni, surf casting, cioè pesca dalla spiaggia, e canna da riva, cioè pesca dal molo all'interno del porto. Mentre i due aspetti sicuramente da sottolineare sono i due tentativi di battere il record mondiale in apnea da parte di un'atleta disabile di Lanciano e da parte dell'attuale detentrice del record. E poi gli altri due aspetti importanti sono quelli di coinvolgere tantissimi ragazzi delle scuole, anche per far capire loro che non esiste solo il cellulare, il pc o il tablet. E poi, insieme con i gemelli di Roma, degli screening che verranno fatti su persone oltre i 65 anni. All'evento sarà presente anche la direzione marittima d'Abruzzo, come annunciato dal capitano di Vascello, Salvatore Minervino. Noi siamo ben contenti di collaborare, di essere parte attiva nell'organizzazione dei giochi del mare. Una cornice di sicurezza, per quanto possibile, più performante che mai, attraverso l'impiego di uomini, mezzi, velivoli, tutto quello che abbiamo a disposizione per fare in modo che siano giornate serene all'insegna dello sport. Grazie.